Torna negli uffici dell'ente di Piazza dell'Autonomia dopo la vacazia elettorale il sindaco di Mazzarrone, Enzo Giannone. Per lui si tratta di un ritorno. Il primo cittadino, dopo aver prestato giuramento, ha preso parte alla contestuale cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale, nel corso della quale è stato eletto il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Spada. Con dieci voti favorevoli, i consiglieri hanno confermato la presidenza del Consiglio Comunale, Giovanni Spada. Cinque voti sono andati invece al consigliere del centrosinistra, Saraceno Melipaolo. Appena prestato il giuramento quale sindaco della città di Mazzarrone, sono giunto al secondo mandato. Sono molto orgoglioso, molto soddisfatto del grande risultato elettorale che personalmente ho ottenuto, che mi riempie particolarmente di soddisfazione. Si è trattato di un risultato plebiscitario, se consideriamo i numeri, e soprattutto la grande passione, il grande plebiscito con il quale sono stato votato. Certamente questo mi attribuisce e ci attribuisce una grande responsabilità nei confronti della città di Mazzarrone, nei confronti degli elettori tutti, perché significa mantenere ora le promesse fatte in campagna elettorale. Queste infine le priorità sulle quali intende continuare a lavorare il sindaco di Mazzarrone, Enzo Giannone. Le priorità che affronteremo sono continuare i grandi progetti già finanziati e cantierati che sono esistenti presso gli uffici comunali e certamente portare a termine tutto il programma elettorale che comprende diversi punti, ma è tutto essenziale per una crescita, per lo sviluppo e per una maggiore giustizia sociale e amministrativa a Mazzarrone.